E di otto persone arrestate, il bilancio del blitz è seguito questa mattina dai finanziari del nucleo Polizia Tributaria di Bari su tutto il territorio nazionale, con il quale è stata smantellata una pericolosa organizzazione dedita al traffico di droga tra Italia e Albania. L'operazione, denominata Illiria, è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, tra origine da una precedente indagine condotta nel 2013, conclusesi con l'arresto ad Altamura di due cittadini albanesi ed il sequestro di oltre 100 kg di marijuana. Successivi accertamenti portarono all'individuazione di una cellula criminale italo-albanese con base a Barletta e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti tra cocaina, eroina e marijuana, un fiscile mitragliatore, 47 capsule detonanti ed oltre 4 kg di titrolo. Al centro dell'attività illecita, un noto trafficante di origine albanesima con cittadinanza italiana, il 47enne Roland Lame, residente a Barletta, già sottrattosi ad una cattura nell'ambito di un'altra operazione antidroga. L'uomo, assieme al figlio 25enne, avrebbe mantenuto i contatti con i propri connazionali in Albania per organizzare e far arrivare in Puglia grandi quantità di stupefacenti. Nell'ambito della stessa indagine, nel giugno 2014, le fiamme gialle intercettarono a largo delle coste baresi un'imbarcazione da di porto con a bordo più di una tonnellata di droga, arrestando due scafisti, un albanese e un italiano. L'organizzazione, grazie alla collaborazione di persone residenti nel paese balcanico, gestiva le spedizioni da e verso l'Italia di grandi quantità di marijuana, anche se di recente aveva spostato le sue attenzioni verso la cocaina, acquistata direttamente nei Paesi Bassi.